Questa è la nuova linea Toursar di Junior che presentiamo per la prima volta al Pitti per la Spring Summer 2014, c'è un nuovo progetto di Pinco Paglino che si è unito a un'altra realtà importante del Made in Italy, che è Toursar di, per creare una linea che fosse collegata alla prima linea Toursar di, per cui il brand dell'Evrier ha deciso di scegliere Pinco Paglino per il suo know-how, per la sua esperienza nel Cintransfer ad alta gamma, per creare questa collezione che proprio riprende alcuni degli elementi, che sono quelli della prima linea Toursar di sia uomo che donna, nelle stampe, nei tessuti, nelle forme. Alcuni degli elementi chiave di questa collezione sono la pulizia delle linee, che è tipica delle collezioni Toursar di, i colori, il color blocking, quindi questi colori forti messi assieme, come può essere il giallo, il rosa, che si possono vedere nella collezione, e li ha mixati e giocati. La linea si divide in due collezioni, che sono una mainline, che è la linea classica che verrà commercializzata, e la top line, che è invece una linea più alta, che avrà una distribuzione esclusiva, in cui compaiono molti capi in pelle. La pelle è un elemento simbolo del brand dell'Evrier, per cui si ritrova in alcuni capi capospalla, ma anche elementi come pantaloncini, pantaloni, ed anche in una collezione di accessori, perché nel mercato del bambino, del children's wear, una parte molto importante è l'outfit completo, quindi proporre al cliente un outfit che possa vestire completamente il bambino, per cui si sono proposte scarpe, una collezione che fosse identificabile, e che fosse abbinabile ad ogni elemento, ad ogni pezzo della nostra collezione. Quindi scarpe ricercate, scarpe curate, realizzate in pelle, assolutamente, e tra cui se ne possono vedere alcune in esposizione, una parte che completano perfettamente la collezione, con anche abbinamenti a cinture o borse, proprio per l'importanza di questo elemento, che è il capo completo, l'outfit completo. Grazie a tutti.